Musica 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 Cosa te lo vaffa? co? bene 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 lo salti inizio bene 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 tu non amico non 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 no adesso fai il schifo al cazzo ah si vuole accendere guardare il schifo no dovevi vedere il frasso il video tutti i testi inizio non c'è è uscito io dai metti quel video fammi vedere quel video oddio Da centro, da cima, dai, dai, da cima, su YouTube, no, arriva, ne vado i messi lì, poi c'è tutto su YouTube, su Facebook, su Instagram, si può dire al meglio, lo sanno tutti, a parte non ce l'ha bisogno, non lo scrivo, ma che ne lo devo, dai, fai schifo, adesso non lascio le rai,